E siamo all'intervista della settimana, protagonista è Sandro Chia, artista insieme a Paladino, Clemente De Maria e Cucchi della cosiddetta transavanguardia, come li definì negli anni 80 il critico Achille Bonito Oliva. Vediamole insieme, io vi do appuntamento sempre qui lunedì prossimo per parlare ancora di arte. Maestro Chia, dove va l'arte? Dove va l'arte? Nel mio caso io so che quando ho l'estro di dipingere, quando ho l'ispirazione, il desiderio, mi recco in studio e mi chiedo questa domanda, dov'è l'arte? Ovviamente ogni giorno credo che in maniera sempre diversa escogito una nuova definizione e la definizione che quel giorno do dell'arte è il quadro che quel giorno riesco faticosamente a concepire, a dipingere. Ma l'estro che cos'è? Un'energia positiva o un conflitto interiore? Beh, forse ambedue. È positiva se si ha l'energia per tradurla in una forza positiva, può essere anche distruttiva. Ma l'artista in quanto creatore non rischia di essere preda anche del delirio di onnipotenza? No, deve, assolutamente. Si ha diritto di vita e di morte sul quadro. Il quadro è un territorio, un campo, un regno. Lei è stato uno dei massimi esponenti della transavanguardia, il movimento degli anni Ottanta. Dove è andata oggi la transavanguardia? La transavanguardia è il nostro lavoro. È il lavoro di un gruppo, un manipolo di scalmanati, che all'epoca venivano chiamati giovani artisti e che hanno dimostrato di saper sfidare il mondo. No, no.